date un'occhiata al condor delle ande ossa cave apertura alare di circa 3 metri ma un peso di meno di 15 kg paragoniamolo allo struzzo ossa piene altezza di circa 3 metri un'apertura alare non molto ampia ma quale sarebbe la sua necessità dato che lo struzzo pesa quasi 140 kg 10 volte il peso di un condor delle ande è questa la ragione per cui gli uccelli sono speciali sono diversi gli uccelli sono tutti riconoscibili come uccelli dalle loro due zampe o dai loro vecchi ma le differenze sono svalorditive